Benvenuto, Giuseppino Nicolini, lei è sindaco di Lampedusa. Come è, come va Lampedusa oggi? In questo momento è tranquilla, abbastanza tranquilla. L'unica cosa di cui abbiamo paura è della paura degli altri a venire in vacanza a Lampedusa. E cosa possiamo fare in Europa per la Lampedusa? Ma innanzitutto raccontare la verità, raccontare qual è il dramma del Mediterraneo e il vero ruolo di Lampedusa. Già Papa Francesco l'ha raccontato quando è venuto a Lampedusa, l'8 luglio 2013, sono vent'anni che Lampedusa fa. Svolge questo ruolo di zattera nel Mediterraneo, di salvare la vita alle persone. E quale senza aggiunto di qualcuno? Effettivamente Lampedusa è stata molto sola, molto. E tutto questo lo ha fatto in nome dell'Italia, ma anche in nome dell'Europa. Quello che noi oggi ci aspettiamo dall'Europa è che finalmente cominci a fare il suo dovere nel Mediterraneo. In termini di soccorso, perché il dramma che è in atto nel Mediterraneo è prima di tutto un dramma umanitario. E anche in aiuto alle periferie d'Europa, ai luoghi come noi, come Lampedusa, che scontiamo tanto abbandono e tanta dimenticanza. Ma si migra per bisogno, si migra per scappare della guerra nel bacino del Mediterraneo. L'Europa dovrebbe chiudere i suoi confini? Che se pensa lei? Ma innanzitutto a mare è impossibile chiudere i confini. Quello che avviene nel Mediterraneo dimostra che anche se fosse giusto, non lo è, ma anche se fosse giusto è impossibile farlo. E allora tra subire questa emergenza grave che comporta grandi perdite di vite umane a mare, grande fatica nel soccorrere queste persone e poi grande emergenza a terra, decidere finalmente di governare questo processo, che è un processo normale. I flussi migratori ci sono sempre stati nel mondo. Questo è nato nel Mediterraneo, è, come dicevo, iniziato 20 anni fa e non finirà domani. Allora governiamolo questo processo con risposte mirate ai bisogni. Canali umanitari dove c'è la guerra, per esempio, e diritto d'asilo in tutti gli altri casi, presso le nostre ambasciate in quei paesi o nei paesi di transito. Questo si può fare. E cosa pensa lei? Lampedusa è una metafora dell'Europa di oggi? Forse Lampedusa è la frontiera del futuro dell'Europa. Da un lato essa rappresenta il fallimento delle politiche di chiusura dell'Europa. Dall'altro Lampedusa è un grande esempio di coraggio e resistenza. Se è un posto così piccolo, con soli 6.000 abitanti, è riuscito a fare grandi cose nel soccorso a mare. Credo che l'Europa possa e debba fare molto, molto di più. E quello che accade oggi a Lampedusa e nel Mediterraneo, forse piuttosto che guardarlo come qualcosa da cui difenderci, dovremmo cominciare a guardarlo come una possibilità di futuro diverso per noi, di convivenza con loro. Grazie.